Come ogni pausa delle nazionali ci insegna, ogni volta che giocano gli azzurri, ogni volta che la Serie A si ferma, ecco spuntare dalla manica dei media la carta Evergreen, quella giocabile in qualsiasi momento della stagione, quando mancano contenuti, ecco spuntare la carta del calcio mercato, con i suoi nomi innumerevoli, gli accostamenti, alcuni verosimili, altri datati, altri nuovi, altri inverosimili per prezzo e politica soprattutto della C.Milan e così iniziano le discussioni tra tifosi su quale sia il giocatore adatto per rafforzare questo Milan che sì, in questo caso, ha dimostrato in questo inizio di stagione aver bisogno di essere puntellato in alcuni ruoli, soprattutto quello del centravanti. Questo perché? Non perché non si creda in Giroud, ma abbiamo visto quest'anno, Giroud sta portando avanti la carretta da tempo, lo sta facendo in maniera stoica, lo sta facendo onorando la maglia, da leader, segnando anche tanti gol quando è in campo, però anche lui ha avuto il periodo d'appannamento che è coinciso con quello che è stato l'appannamento del Milan, perché il Milan si butta spesso su Leao cercando in lui le soluzioni, ma Leao non è il nostro bomber, è il nostro top player, è il giocatore creativo, la rottura sulla fascia sinistra che crea superiorità, ma il vero bomber era ed è oggi ancora individuabile in Oliver Giroud. Certo è che non si può andare avanti così, perché quando ha i momenti di appannamento, che è fisiologico, anche i giocatori di 25 anni, ma che lui alla sua età non può non nascondere, e quindi si palesa come è successo il mese scorso, in Mina si ritrova a corto di numeri. Un po' perché i giocatori sui quali aveva puntato hanno bisogno di tempo per poter dare il loro contributo. In altri, perché alcune scommesse, l'anno scorso del Cattelare, ancora prima l'Azetic, piuttosto che altri giocatori giovani sui quali si è puntato non hanno performato, si ritrova un po' orfano di quello che è il giocatore che tutte le altre squadre hanno. Perché senza parlare delle squadre straniere, che sono ancora irraggiungibili sotto tutti i punti di vista, guardando nel nostro giardino, guardando nel campionato per il quale noi concorriamo, che sia Inter, che sia Juventus, che sia Napoli o che sia Roma o Lazio, ognuna di queste ha la sua punta di diamante. Lautaro per l'Inter, che risolve problemi anche quando l'Inter entra in maniera, tra virgolette, opaca in partite dove potrebbe teoricamente non giocare Lautaro, ma poi, inserendolo, le risolve. Oppure i match clou in cui lui, da leader, riesce a determinare. La Juventus a Vlaovic, che forse è stato sfruttato al 30%, un po' per colpa dell'allenatore, un po' per colpa del suo inserimento all'interno del gruppo Juve, ma è un giocatore, è un top player, un top player, un giocatore sul quale io scommetterei e porterei a Milano domani. La Roma a Lukaku, in un modo o nell'altro se l'è portato, i suoi gol li fa, l'importanza all'interno del contesto Roma c'è e quindi la Lazio con l'immobile. Il Milan si trova con Oliver Giroud, 37 anni e la speranza è che o non si faccia male o non venga squalificato incontrando arbitri come Abisso che decidono di lasciarlo a casa, in panchina, anzi in tribuna, per due settimane. Senti mai? Durante le quali il Milan si trova a dover giocare partite importanti per obiettivi importanti con una rosa, ahimè, ahimè, ridotta ai minimi termini. E allora quello che voglio dire, non voglio parlare di nomi, non voglio parlare di smentirvi o confermarvi i nomi o trovarvene di nuovi o darvi esclusive. Quello che è il concetto di questo video è cosa ci serve, cosa serve al Milan, Cosa io auspico il Milan sia cosciente di necessitare e sul quale lavorare a partire da giugno? Perché so che a gennaio non si fanno grandi affari ed è appunto il mercato che una volta si chiamava di riparazione. Ma a giugno vogliamo maturare? Vogliamo diventare grandi? Vogliamo dare all'allenatore che sarà alla guida dell'AC Milan un giocatore in grado di determinare e di dare anche riposo a Giroud che rinnoverà, che resterà con noi, ma che non è indistruttibile, non è un Highlander con tutto che potremmo anche definirlo tale per quelli che sono i risultati in campo? Ragazzi, il Milan ha bisogno di maturare sotto tutti i punti di vista, ha bisogno di un giocatore che ti risolva le partite, ha bisogno di un giocatore che ti tiri via le castagne dal fuoco senza se e senza ma, non qualcuno da rehab psicologico o fisico, non qualcuno da recuperare sul quale scommettere, certezze e non scommesse. Questo è il giocatore che io chiedo all'AC Milan per la stagione 2024-2025. Se siete d'accordo scrivetemelo nei commenti, nel frattempo speriamo che passino questi giorni e che il Milan ritorni presto in campo perché senza il Milan in campo, tra notizie di mercato e pochi temi di cui discutere, ci si annoia veramente tanto. Ciao ragazzi, forza Milan, sempre!